E subito passo appuntato, dondolo, dondolo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sei, otto e ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno e spingo indietro il piede e in avanti, dondolo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, spingo in avanti, otto e ancora, otto, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, alzo la gamba marionetta e continuo, destra, sinistra, lula hop, qui, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ci sono le campanelle, qui, e lo facciamo girare, semplice, semplice, quello che si riesce, un minutino, solo un minutino, la Laura si esercita a casa, guardate che velocità, non hai fatto esercizio, prima o poi, cambiamo parte, tu sempre dalla solita, sempre dalla solita, io ho il muro, mannaccia, aspetta, vado un pochettino avanti, un minutino, eh, continuiamo a farlo girare, da una parte e poi dall'altra, poi dopo prendiamo un pesetto e iniziamo a lavorare con gambe e braccia, così facciamo tutto, pesetto da due, ok, prendiamo un pesetto da due, gambe qui, salvo, scena, o, qui, salvo in alto, due, su, tre, quattro, in alto, su, e, alto, qui, su, e, su, qui, i primi sembrano facili facili, su, e, qui, su, e, qui, e, intanto, molleggio, su, e, tanto l'altro è riposato, su, adesso cambio, o, su, due, un minutino, e, su, qui, e, su, qui, su, e, qui, cala il braccio, su, e, stendo bene però, su, e, su, qui, su, e, su, su, resisto, su, e, su, qui, su, e, qui, su, e, su, qui, e, su, non mi fermo, qui, adesso si, appoggiamo, chissà se riesco farlo girare qui, che dite? no, si, qui, faccio girare l'ula hoop, e, possiamo continuare il lavoro qui? non possiamo? beh, io continuo, quello che si riesce, già che abbiamo lavorato con le braccia, andiamo avanti, no? perché due è meglio di uno, quindi, mentre lavoriamo con gli addominali, andiamo avanti a lavorare anche con le braccia, ok, dobbiamo cambiare giro, e da qui, fa male anche così, dopo le abbassiamo, è perché continuiamo a avere le braccia alte, che fa male, resisto, qui, e, su quei gomiti, non li faccio scendere, ok, appoggiamo, e da qui, semplice, semplice, a fondo, scendo, su, scendo, qui, e, qui, scendo, qui, e, scendo, e, scendo, Un minutino, qui, scendo, su, scendo, qui, scendo, si cambia gamba, scendo, qui, e scendo, su, giù, torno, scendo, va bene, va bene. Scendo, su, giù, qui, scendo, su, giù, qui, e qui, giù, scendo, su, giù, qui, e su, giù, qui, scendo, qui, scendo, su, giù, 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 qui, scendo, 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 gi su, giù, scendo, su, giù, scendo, qui, giù, scendo, su, giù, continuo un minutino, ok, la campanella si sente bene, un piede davanti, l'altro indietro, e facciamo girare, braccia, che dite, no, alterno, mantenendo sempre i gomiti belli alti, 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 qui, faccio girare, non mi fermo, e cambio, piede, cambio giro, ho fatto girare storto storto, non importa, qui, continuo, che velocità Laura, stendo in avanti le braccia, qui, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, proseguo, otto, sette, sei, cinque, quattro, e prendiamo sempre i pesetti un po' pesanti, continuiamo con un affondo, una torsione, su, sempre dalla stessa parte, scendo, torsione, e qui, due, giro, e qui, tre, giro, e su, quattro, giro, cinque, giro, sei, giro, sette, giro, otto, giro, e ancora, otto, sette, e sei, cinque, quattro, a mia parte, otto, e ancora, otto, e ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno, oh 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 Grazie a tutti.